Eccolo il giorno speciale di Radio Radio, Andrea Cionci, torna con noi, storico dell'arte, giornalista e scrittore, autore di Codice Ratzinger. Eccolo Andrea, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno Francesco, un caro saluto a tutti gli ascoltatori e grazie per questa... Oh, bentornato, ci fa molto piacere. Codice, dacci un po' lo stato di salute del tuo libro, di Codice Ratzinger. Codice Ratzinger è stato inserito da Corriere della Sera e Sole 24 Ore, fra i primi dieci saggi più letti in Italia. È un bestseller che ha venduto 8200 copie in tre mesi, ringrazio tutti i lettori. Ma non è tanto il merito mio quanto il fatto che la questione di questi due papi appassiona tutti e adesso i nodi sono venuti finalmente a pezzi. Allora, prima del pettine però, beh, soltanto in sintesi cos'è questo Codice Ratzinger? Di che parlo? Sì, il volume dimostra che, oltre, diciamo, ogni ridondanza, il fatto che Papa Benedetto non ha mai abdicato al titolo di Papa, come lui stesso ripete da nove anni, il Papa è uno solo, ma lui non spiega quale. Infatti il Papa è lui, non ha rinunciato al munus, al titolo divino, di origine divina di Papa, di Pontefice Romano, ma si è ritirato in sede impedita, cioè in uno stato di prigionia. Per questo motivo vive ancora chiuso in Vaticano, vestito di bianco, con il nome pontificale, con la possibilità di impartire la benedizione apostolica e altre prerogative pontifice. Ma questa cosa non lo dicono solo i canonisti e la sua stessa declarazione dell'11 febbraio 2013, ma lo rivela lui stesso con un linguaggio appena velato, ma assolutamente logico o anfibologico, che spiega attraverso libri, lettere e interviste, lo stesso Papa Benedetto ci spiega che lui si è ritirato in sede impedita e che resta quell'unico Papa di cui parla da nove anni. E questo lo fa dicendo sempre la verità, è qualcosa di incredibile, straordinario, lui riesce a dire sempre la verità. Per esempio, vi cito solo una frase, quando lui dice ho rinunciato validamente al mio ministero, in italiano i duenti, munus e ministerium, nei quali è scomposto l'incarico papale, si traducono entrambi con la parola ministero. Solo che se rinuncia al munus c'è l'abdicazione, se rinuncia al ministerium va in sede impedita. Quindi Papa Benedetto dice la verità, dice che lui ha rinunciato al suo ministero, ma mentre tutti pensano che lui abbia abdicato, la realtà è ben diversa ed è appunto quella della sede impedita. Cosa mai smentita da almeno due anni a questa parte. Allora, attenzione, attenzione, ci sono anche delle domande come al solito. Papa Ratzinger, Papa Benedetto XVI, il Papa in carica è però un altro, è Papa Francesco. Regnante, non in carica, è regnante. Sì, infatti, come dice Monsignor Genswein, c'è un solo Papa legittimo, ma due successori di San Pietro Viventi. Allora, questo che cosa vuol dire? Che c'è un Papa legittimo e uno illegittimo. Quindi Bergoglio è un Papa illegittimo, un antipapa. Perché? Perché è stato eletto con il Papa precedente non morto e non abdicatario. Senti, si parla ancora di dimissioni di nuovo. È un'esagerazione o è una possibilità che Bergoglio si dimetta? Bergoglio non può dimettersi perché non è Papa, quindi non ha alcun incarico pontificio dal quale dimettersi. Infatti, se lui si dimettesse, dovrebbe rinunciare al munus petrino, come da canone 332.2. Solo che il munus petrino, guarda caso, è rimasto nelle mani di Papa Benedetto. E infatti lui stesso, lo stesso Bergoglio, dice che le dimissioni di Papa Ratzinger sono state poco chiare. Ah, perfetto. Se c'è un atto nella vita giuridica della Chiesa che deve essere assolutamente fuori da ogni incertezza e ambiguità, sono le dimissioni, inteso come abdicazione, di un Papa. Quindi che facciamo? Lo stesso Bergoglio dice che le dimissioni di Papa Benedetto sono poco chiare. È assurdo, no? Infatti, Papa Emerito non vuol dire Papa in pensione, ma vuol dire colui che merita, che ha diritto di essere Papa. Perché fra questi due Papi, uno legittimo contemplativo e uno illegittimo, attivo e regnante, il contemplativo è l'Emerito, cioè colui che in effetti ha diritto di essere Papa perché ha il munus petrino. Emerito, appunto, merita di, no? In qualche modo. Esatto, come quando si dice un Emerito studioso, no? Viene dal latino Emerio colui che ha meritato, colui che ha diritto di ricoprire quella carica. Il viaggio recente di Bergoglio in Canada. Hai pubblicato una lettera firmata da 300 persone a due noti esorcisti. Perché? Sì, stanno succedendo delle cose dell'altro mondo, mentre il mainstream fa finta di non vedere. Il fatto è che Bergoglio non abbia il munus petrino, dal punto di vista cattolico, fa sì che lui non abbia alcuna garanzia di assistenza da parte dello Spirito Santo. Come voi sapete c'è il dogma dell'infallibilità papale, eccetera. Quindi è del tutto naturale che con Bergoglio, che non è il Papa, noi si vada così, come a un terno all'otto. Infatti il presunto Papa Francesco in Canada ha partecipato letteralmente a un rito negromantico. Non dovete credere a me, andate a vederlo su YouTube e vedrete che lui partecipa a una cerimonia con uno sciamano inuit che prende una penna di tacchino, un'erba fumante e invoca la cosiddetta nonna occidentale, con questa formula. Questo mentre lo stregone indiano chiede a Bergoglio e ai cardinali di partecipare, e questi qui partecipano con la mano sul cuore, l'espressione concentrata, eccetera. Quindi fanno completamente parte di questo rituale. E lo stregone dice, chiedo alla nonna occidentale di darci accesso al cerchio sacro degli spiriti, in modo che possano essere con noi, così possiamo essere uniti e più forti insieme. Ora, con grande rispetto per la religione degli inuit, però in ottica cattolica, questa è l'evocazione di demoni, perché qualsiasi evocazione spiritica da parte di esseri umani, viventi, costituisce in ottica cattolica l'evocazione di demoni. Quindi voi avete il presunto Papa Francesco che ha partecipato a un rito negromantico per l'evocazione del diavolo. Vi sembra normale? Beh, ma Andrea, si fa, io non conosco se una cosa del genere sia mai accaduta nella storia recente, almeno del secolo scorso, dei papi, ma si partecipa anche ad abitudini, a costumanze diverse, anche per aprire dei rapporti. Può essere questo il motivo o c'è dell'altro? No, non può essere questo, perché esiste un peccato di idolatria. Cioè tu puoi incontrare dei leader religiosi di altre religioni, intrattenere con loro dei buoni rapporti e quello va bene, ma partecipare a un rito pagano, quello che appunto per i cattolici è un rito pagano, in cui si invocano degli spiriti. È un atto idolatrico e di negromanzia, ma le regole non le ho fatte io, voglio dire, io non ho nessun problema, però chiunque conosca quali sono le regole della dottrina cattolica sono queste qua. Il sincretismo religioso è un assoluto controsenso per la religione cattolica che si ritiene essere una religione rivelata direttamente da Dio. Quindi se Gesù Cristo è il figlio di Dio, vogliamo accettare che è il figlio di Dio che è venuto per dare l'identità del Signore, il Dio trinitario cristiano, e poi non la si può ributtare in caciara, come si dice a Roma, dicendo ah vabbè Dio poi si è manifestato a quelli come Allah, a quegli altri come Mazda, a quegli altri come Shiva, ma alla fine resta un'entità indistinta, perché è l'offesa più grande che si possa fare alla rivelazione. Questo facendo salva la libertà di ognuno di credere nella propria divinità. Andrea Cionci, con noi, storico dell'arte, giornalista e scrittore, autore di Codice Ratzinger. Hai parlato di un processo in corso che riguarda la figura di Maria. Spiegaci meglio. Il 5 agosto scorso a El Alto, in Bolivia, è stato compiuto un sacrificio umano ai danni di un ragazzo che è stato sepolto vivo in onore della Pachamama, la madre terra. Voi sapete che la Pachamama è stata intronizzata da Bergoglio in San Pietro con una processione fatta da vescovi e con religiosi vari che si prostravano di fronte a questa divinità di origine incaica, che è la madre terra. Ora è in corso un processo di trasmutazione della figura di Maria, che è la madre del cielo, al suo opposto, cioè la madre terra. Infatti anche la nonna occidentale di cui parlava quello stregone inuit non è nient'altro che la madre terra, ovvero la nonna ragno, una divinità che lancia la sua aragnatela sui bambini per catturarli e mangiarli. Insomma, non molto assimilabile alla Maria cattolica. Immagino che su questo potrete convenire. Quindi perché c'è questo processo in corso? Perché siccome Bergoglio punta ad annichilire il cattolicesimo e a renderla un contenitore per una nuova mega religione sincretista al servizio dei poteri forti mondialisti, non si può puntare lo sguardo all'ultraterreno, al cielo, al soprannaturale, all'aldilà, perché su quello le varie religioni hanno tante visioni diverse. Chi è per il purgatorio, il paradiso e l'inferno, chi per la reincarnazione, chi per i fiumi di latte e miele con le 72 euri, eccetera. Quindi si hanno varie visioni spirituali nelle varie religioni. Quindi l'unico ambito nel quale ci si può mettere d'accordo è quello della gestione della terra. Ma si tratta di un processo radicalmente inversivo, disidentificativo e distruttivo del cattolicesimo che, sempre dal punto di vista cattolico, non può a che essere un processo di tipo anticristico. Se a voi sembra normale tutto questo, io non lo so. Per questo vi dico, Bergoglio è autorizzato a fare quello che fa perché non è il Papa, semplicemente. Allora, però, più sintesi, più domande, e ultimo incontro di Bergoglio e Benedetto. Ratzinger, abbiamo visto anche un'immagine poco fa qui in tv, Ratzinger sembra affettuoso verso Bergoglio. Come è possibile allora? Molti si stupiscono e vengono anche turbati da questo atteggiamento di Papa Benedetto verso Bergoglio, ma è una cosa straordinaria perché Papa Benedetto ama il suo nemico e prega per il suo persecutore, come si legge nel Vangelo. Quindi lui sta attuando il comandamento di Gesù Cristo, lui è stato detronizzato ed è stato messo in sede impedita, ma nonostante questo ama il suo persecutore. E questa è la prova di quanto io dico, la prova assoluta di quanto affermo, è contenuta nel libro Ultime Conversazioni del 2016 in cui Papa Benedetto si arrampica sugli specchi, per così dire, non vorrei essere riverente, pur di non dire che Bergoglio è cattolico e il Papa è santo, ma fa degli elogi di tipo generico, dice che è molto diretto con gli altri, ha un forte carattere, sa esattamente cosa fare e cosa non fare, risolve i problemi con coraggio, cioè tutti i apprezzamenti che per esempio anche Wellington avrebbe potuto fare nei confronti di Napoleone, per dire, anche di Stalin si può dire che era un uomo di grande carattere, con piglio decisionista, eccetera. Io vi invito a leggere il mio articolo su questi apparenti elogi di Papa Benedetto, perché lui essendo il Papa deve dire la verità, non può dire che Bergoglio è santo, è suo amico, è un bravo cattolico, ha un alto magistero, no, si limita a fare questi apprezzamenti di natura generica, egli vuol bene, lo ama, prega per lui, prega per il suo pontificat, come dice in tedesco, che ha un doppio significato, non solo di pontificato, ma anche di episcopato, quindi Papa Benedetto in sostanza prega per l'episcopato di Buenos Aires, che è stato abbandonato da Bergoglio, assurdo a nuovi e illegittimi incarichi. Claudio scrive, quindi, Cionci, come andavano gestite allora le dimissioni di Ratzinger? Se lui ha rinunciato alla parte attiva del suo papato, chi è che doveva farne le veci? Papa Benedetto, rinunciando al ministerium, all'esercizio pratico del potere, avrebbe dovuto nominare lui stesso un prelato che facesse il suo vice, il suo vicario, per gestire l'esercizio pratico del potere e nella fattispecie quello che lui definisce annunciare il Vangelo e governare la barca di Pietro. Quindi lui avrebbe potuto senz'altro nominare un vicario, ma non lo ha fatto, gli hanno convocato alle spalle un conclave invalido, perché il conclave deve essere e può essere convocato solo con il Papa precedente morto o regolarmente abdicatario e quindi Bergoglio è assolutamente illegittimo. Papa Benedetto che cosa ha fatto? Facendo un atto del tutto chiaro, legittimo e adamantino, ha indotto in tentazione i suoi nemici che volevano toglierlo di mezzo a tutti i costi, anche con un complotto di assassino portato alla luce da Marco Lillo del Fatto Quotidiano, gli ha indotto in tentazione in senso teologico, come si legge nel Padre Nostro, cioè gli ha messi alla prova e loro la prova non l'hanno superata. Chiudiamo un'altra domanda, ci sono alcuni molto sorpresi tra i nostri ascoltatori, lo conosco bene anche, non è sorprendente che siate sorpresi, almeno una parte degli ascoltatori, non piccola, riguardo alle affermazioni di Andrea Cionci su Bergoglio. In ultimo, perché Bergoglio nomina parecchi cardinali, tutti questi cardinali, Andrea? Sì, questo è molto interessante, perché Bergoglio già da tempo aveva nominato una raffica di cardinali invalidi, naturalmente, che se andassero a un prossimo conclave eleggerebbero un altro antipapa, perché appunto non hanno diritto di voto. Ma perché, pur avendo già una maggioranza blindata, lui continua a nominare a grappoli questi falsi cardinali? Peraltro poi li porta pure in visita da Papa Benedetto nella pia illusione che lui possa convalidarli. E Benedetto risponde, come ha fatto nel 2019, dicendo ai cardinali, vi raccomando la fedeltà al Papa, chiaramente senza spiegare quale dei due. Papa Benedetto è veramente un genio e ha un senso dell'umorismo straordinario. Ma io credo che Bergoglio stia nominando in continuazione cardinali per una mozza difensiva, perché sa benissimo che la sede impedita verrà ufficializzata presto o tardi. Allora la Chiesa si dividerà, ci saranno cardinali lealisti con Papa Benedetto XVI e altri falsi cardinali che lo seguiranno. E la cosa veramente raccapricciante, trovo, è che questi ecclesiastici, pur di mantenere la berretta cardinalizia, difenderanno l'antipapato, tradiranno Cristo con tutte le conseguenze di natura spirituale che voi potete ben immaginare. Quindi è una mossa difensiva, lui sta, secondo me, fortificando un gruppo di pretoriani, di cardinali che difenderanno il suo antipapato nel momento in cui la sede impedita verrà manifestata. Allora, noi chiudiamo qui, molte domande, meriterebbero tutte una risposta? Lo faremo, Andrea. Possono scrivermi, scusa Francesco, chi ha delle curiosità può scrivermi all'email codiceratzinger chiocciolalibero.it, gruppo Telegram nonprevalebunt Andrea Cionci e poi ci sono anche i gruppi Facebook di Codice Ratzinger dove potete scrivermi, fare obiezioni, mandarmi anche le maledizioni come fanno i Bergogliani non c'è nessun problema. Anzi, sono le benvenute. Grazie Andrea.